Dopo l'altolà di Forza Italia, Catello Maresca prova a ricucire lo strappo con la coalizione di centrodestra e aggiusta il tiro. Ho sbagliato a dire che me ne frego dei partiti, chiedo solo un passo di lato per proporre un modello diverso, afferma il magistrato, che sa bene quanto potrebbe rivelarsi difficile la sua corsa al comune senza l'appoggio dei partiti. E il primo a rispondere presente è Matteo Salvini della Lega, che in un intervento a Radio CRC ha confermato di essere disposto a rinunciare al simbolo del carroccio sulla lista. Penso che il centrodestra non se la debba lasciare sfuggire, anche perché a sinistra sono tanti, sono divisi, sono litigiosi. Se poi uno mi dice, ma tu vuoi assolutamente il tuo simbolo sulla scheda elettorale, per me prima viene Napoli. Ma da Fratelli d'Italia arriva il no convinto di Giorgia Meloni, che a Napoli vuole ballare da sola con il suo candidato Sergio Rastrelli, mentre Forza Italia è divisa al suo interno. A sinistra si lavora sui nomi delle liste per Gaetano Manfredi, guardando con attenzione a quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle e allo scontro tra De Luca e il governo. Un richiamo alla collaborazione istituzionale arriva dall'Unione degli Industriali di Napoli. Il presidente Maurizio Manfellotto ha bocciato la ricetta dell'uomo solo al comando e parla della sfida per la ripartenza e le comunali. Stop a battaglie ideologiche e polemiche sterili, avverte, e agli imprenditori rivolge un appello. Siate sentinelle della politica, qui si gioca il futuro. Non basta avere fondi aggiuntivi, bisognerà spenderli bene per diventare competitivi.